Direttore, buongiorno. Manetti, devo fare le miei complimenti. Grazie, direttore. Non mi ringrazio. Lei è un genio. Lei sa che io dico sempre che non bisogna fermarsi davanti a nulla pur di firmare un contratto. Ma l'idea di farsi la cliente è una strategia geniale! Signor direttore, guardi, io non ho fatto niente. Certo, noi siamo galanti uomini, non è che ci vantiamo delle nostre conquiste. Sappia che da questo momento in poi io la terrò in altissima considerazione. L'ho sottovalutata, lo ammetto, l'ho sottovalutata. Mi scusi la domanda, in quanti sanno di questa cosa? Noi qua siamo una famiglia, sappiamo mantenere un segreto. Non si preoccupi. Complimenti ancora. Manetti! 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 Manetti!